La Max Stefani Network Superpass qui in casa Sanremo, siamo con uno staff quasi al completo oggi, i nostri partner di Max Stefani e di Superpass, siamo in una situazione di benessere, di immagine, Luxury Staff, siamo con Anna e Anna. Ciao Anna. Aura, Aura. Aura, perdonami Aura, senti Aura, cosa diciamo al pubblico a casa? Parliamo un attimino del settore immagine e del settore bellezza. Che oggi giorno l'immagine fa tutto, l'immagine vende, parliamo di immagine come total look, quindi trucco parrucco, il modo di vestirsi, di comportarsi, l'etichetta, comunque total look. Oggi siamo qui nella veste di fashion editor io, Anna come consulente d'immagine. Ciao, buonasera. La consulenza d'immagine oggigiorno è una cosa molto molto importante, perché si dà poca importanza al total look. Vediamo delle volte degli abbigliamenti proprio che non stanno né in cielo né in terra. Invece il total look è importante dalla scarpa al cappello. Quindi noi facciamo, è il nostro obiettivo, raggiungere e fare informazione. Le persone devono sapere qual è il loro esame cromatico, i loro colori amici, i loro colori nemici, e da lì poi si apre un mondo, perché poi i colori diventano simbolo della persona che sta bene con un colore, o sta peggio con un altro colore. Indubbiamente, psiche uguale anima, ma è uguale anche colore. Colore, poi il colore è il make-up, quindi poi il colore è hair stylist. Dal colore parte un po' tutto. E poi c'è i vari stili, che comunque ogni persona ha il proprio stile, e sta a noi in questo caso capire e dargli dei consigli qual è lo stesso stile migliore. Bene, da Max Stefani da Superpass, da Casa Sanremo, grazie. Ciao a tutti.